Allora, vediamo di identificare quali sono le gambe di prodotto e poi vi spiego sostanzialmente la demo che vi ho preparato che in qualche modo mira a farvi vedere le potenzialità dell'hyperconvergent storage e di tutte le funzionalità che il mio collega vi ha prima esposto. Come diceva giustamente Alessandro, noi siamo un vendor di storage, quindi produciamo gli storage, come diceva Alessandro, lo riproduciamo su hardware standard anche se il tipo di esperienza che lasciamo al nostro cliente è un'esperienza finita, cioè forniamo la macchina già compresa di hardware e di software proprio per evitare poi lo scarico delle responsabilità classiche, che compro l'hardware da qualcuno, compro il software da qualcun altro, compro il VMware da qualcun altro ancora e il risultato è che quando ho un problema non si sa mai di chi è la colpa. Quindi quando comprate una soluzione Sinetto comprate tutte queste cose insieme e il vostro interlocutore si chiama Sinetto, che è quello che vi risolverà il problema dalla parte hardware alla parte virtualizzazione passando per le parti storage. I prodotti sono di tre tipologie, gli ARC, gli Ultra e gli Xtreme. Gli ARC sono macchine che utilizziamo per il disaster recovery e per l'archiviazione a lungo termine, quindi backup in generale. Gli Ultra Series invece sono delle macchine che utilizziamo per la virtualizzazione, questi combinano dischi allo stato solido insieme a dischi a rotazione, quindi diciamo siamo in grado di fare dei pull, che a tutti gli effetti sono dei pull, magari utilizzo dei termini che magari alcuni non sono ancora chiari, il pull è l'equivalente del ride, quindi è quel sistema che garantisce la sicurezza e la continuità della gestione del dato nello storage, con tutta una serie di cose in più, tecniche che non sto ad elencare perché ci sarebbe veramente da parlare ora di questa cosa, quindi Ultra Series sono macchine che combinano dischi a rotazione con dischi SSD, quindi introducono anche questo concetto di velocità e poi abbiamo gli Xtreme Series che sono invece delle macchine puri SSD, cioè quindi sono degli oggetti che vengono utilizzati dove c'è bisogno di altissima prestazione. Ora nella parte Ultra e nella parte Xtreme i prodotti possono essere forniti sia come storage tradizionali che come hyperconverged, cioè il prodotto può arrivare da voi come se fosse uno storage e quindi a cui ho bisogno di avere tutta la parte di infrastruttura o semplicemente può arrivarmi già come hyperconverged e quindi contenere già tutto quello che mi serve per poter incominciare a deliberare il mio sistema informativo, quindi cominciare ad accendere e a caricare le macchine virtuali, i miei server che in qualche modo devono offrire servizi all'interno dell'azienda. Bene.